Ciao a tutti, sono Piercarlo Sanzi Puttini, Presidente di Ice Von Luce e reumatologo presso l'ospedale Sacco di Milano. Tra qualche giorno partirà da Palermo la Marcia Francigena e colgolo questa occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questo evento, in particolare Giuseppe Fabio che è la nostra referente in Sicilia. Alla Marcia Francigena parteciperò anch'io, probabilmente in qualità di autista e non in qualità di camminatore in quanto credo che la mia forma fisica non mi renda possibile fare tutti questi chilometri, ma vi aspetto lungo il percorso.